Bimbe, bimbe di ogni età, ecco qualcosa che vi stupirà, Suvenite è proprio qui, è il paese di Hanoi. Hi everyone, e bentrovati a tutti. Eh lo so, era da un po' che non facevo vedere la mia faccia. Vi sono mancata? Probabilmente no. Comunque, sono qui per darvi un annuncio, un annuncio normale. Sono qui per dirvi che pubblicherò due video a tema Hanoi. Uno venerdì, cioè oggi, cioè subito dopo quest'annuncio. E l'altro non venerdì, ma sabato. Sabato 31 ottobre 2020. Esattamente, il giorno e la notte di Hanoi. La notte di Hanoi. Ci sto. Dicevo, sabato 31 ottobre 2020, alle 20 e 30, così avrete tutta la notte di Hanoi, per godervelo. Ok, ho detto tutto, possiamo cominciare. Il video che vi propongo oggi è un video esperimento. Vado a riprendere un mio vecchio, ma proprio vecchio, disegno. Hashtag 2010, 2011, non di più. E lo farò diventare un hashtag 2020. Il disegno che ho scelto non è un semplice disegno di tutti i giorni. È un disegno, ovviamente, a tema Hanoi. Ma in modo particolare, io ho preso tre dei miei personaggi e li ho... FUSIONE! Esattamente, li ho fusi con i personaggi di Nightmare Before Christmas. Andiamo a vedere in modo particolare chi si è fuso con chi. Sei cotto! Finito! Non hai che da pregare! Perché sono Mr. Bao Bao e tu non puoi scappare! Esatto, il mio quiverotto è stato fuso col Bao Bao. Ed è venuto fuori una cosa che attualmente non sembra inquietante, ma quando metterò il colore? Temo già adesso. Ecco, questo personaggio qui è già più difficile. Il mio personaggio è quello che abbiamo visto anche poco tempo fa nei video precedenti. Ed è Sheck. Il mio personaggio è Sheck. Ma da chi ha tratto spunto? Lo so, questo è un personaggio secondario. A ben guardare forse non è neanche un personaggio, ma una comparsa. Però a me piaceva l'idea del serpente. E ultimo, ma non ultimo, ovviamente ci mettiamo anche... Scheletron c'è lo spirito di morte. Può fare capo dalla pelle dal terrore. Questo Halloween grido insieme a noi. Fate largo a chi è. 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 È Jack. Ecco. Ovviamente ci mettiamo anche Jack. E il mio personaggio è... Esatto, quell'idiota lì. Proprio lei. Bene, adesso che abbiamo chiarito chi è chi, non resta che andare a trasformare questo 2010 in un 2020. Via via. È. Ciao a tutti 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 Wow 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 Ciao a tutti Non hai che da bregare Perché sono Mr. Bao Bao E tu non puoi scappare E tu non puoi